Ciao ciao da Canale Nikitocci, noi siamo a Dubai. Ciao ciao. Non si vede niente senza occhiali. E qua di Francia abbiamo il palazzo più alto del mondo, alto 830 metri. E poi andiamo a vederlo. Sì, guarda anche le bandiere. E qua siamo al Dubai Mall. Dubai Mall, pieno di cose per bambini, un sacco di divertimenti. Adesso lo vediamo. Chiara nel palazzo qua. Andiamo a vedere. Andiamo. Guardate qua, tu riesci, amici. Io voglio entrare. Guarda qua, guarda qua, guarda qua. Stanno avvicinando. Mamma, stanno calando una gabbia. Una gabbia. Assista, lasciate la gabbia. Visi in me è quello per vedere gli squali. Visti in me è quello per vedere gli squali. Questo è il Venti. Vai, vai. 2 euro 21 euro Questi consumi dai terhan Sono 5 euro 5 euro poco andiamo dopo vediamo cosa vince Nikita secondo me il negozio devi andare con i piedi Nikita ok non sulla terra, solo a volare ok, ready? ok ok 1 2 2 21 22 più wow 23, 24 no more? buon lavoro ok questo è per te è un paradiso di divertimento e di dolci ovun grazie 2 ok è impazzito, è impazzito Nikita dai compriamo un po' ci sono altre persone che mi ventilano questo quanto costa? lo faccio io? non lo faccio io lo faccio io? in Milano sta stampando il nome? si allora Nikita com'è? cos'è che ti piace di più? non l'abbiamo ancora finito ma cosa vuoi vedere adesso? chizzani e cos'è? chizzani un parco di divertimento per bambini dove si può allestirsi si che allora si può anche operare il manichino si bene che non è vero dobbiamo provare tutte le professioni tutti i lavori e poi c'è quello degli animali no? si dopo facciamo questo si può anche affazzinare un parco affazzinato guarda il quesero è 3D il quesero è 3D andiamo a chiederla dai partiamo dai partiamo dai ma dove non è bello andare in taxi? in valentina prendiamole qui con le palline no andiamo andiamo qui qui è fichissimo può più le mani Questa è per la sua parte direttiva. Qui puoi fare le punte, puoi le punte, e puoi tirare con questo, questi droni. E poi puoi farlo come una scelta, scoprire la tua face, per farlo come una scelta. E poi puoi scendere anche nella torre. Sei contento? Hai capito allora? Sparare col bottone, schermare con la mano, nascolte chi chiede la colonna, e puoi anche dargli il pugno. Ok? Ok? Va bene. Excuse me? Yeah? Finish? No. Just wait, just wait. Ok. Nice, nice. Che volo! Eh? Bello? Come hai corragito? Bello ti muoveri. Vorrei ancora farlo. Ti è piaciuto? Sì. Cos'è che si vedeva in realtà? Si vedeva una schermata con dei tizi, che mi andavano addosso. Sì, io al culo li facevo TANG! E li facevo volar via. Ah, di questo forse? Sì, col buco lì sotto il fucile. Dai andiamo! Eh? Vorrei ancora fare qualcosa. Allora come è andata la visita? Bene! Cos'è che ti è piaciuto? Troppo bene per Nikita. Eh? Che cos'è che vuoi dire? È una città di divertimento questo qua. Cos'è che ti è piaciuto? Eh. Mi è piaciuto quando... Quella domanda. Quando ho picchiato coi robot. Tutti quelli con il visore 3D. Ciao! Ciao! Ciao ciao! Cansigliato! Dubai Mall. Cansigliato! Ciao ciao! Dove è quella? Vuoi quella? È in vendita! È bella! Questo è il pane raro, il negozio italiano. È in vendita? No! Non penso proprio. Vado a chiedere quanto costa! 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 Vado a che...